Una doccia gelata in piena regola giunta nella tarda serata di ieri quando ci si preparava ad intensificare l'attività di produzione e vendita anche attraverso la modalità di asporto. Per i commercianti saleritani del settore della ristorazione, l'ordinanza con cui il governatore della campagna ha confermato fino al 10 maggio il divieto di asporto è stato un'ulteriore mazzata, tanto che subito si sono attivati i tavoli di confronto. Gli imprenditori del settore lanciano un vero e proprio grido di dolore. Il presidente della CS generoso russo si rivolge al governatore della campagna affinché la situazione possa sbloccarsi anche prima del 10 maggio. Il settore ristorazione è in ginocchio, urge una presa d'atto anche da parte del governo che deve farsi garante e mediatore anche nell'annosa questione dei fitti dei locali. Questa è una cosa che non ce l'aspettavamo perché noi ci siamo preparati anche per l'asporto e avevamo già acquistato materiale per far sì che lavoravamo da asporto. Siamo rimasti freddi stamattina, la notizia ci ha un po' freddato. Io conosco bene il governatore, ogni tanto ci parlo di persona perché sono il presidente dei commercianti salernitani quindi chiedo un po' di flessibilità. Fino adesso Vincenzo ti sei mosso bene e continuo a muoverti bene e ti chiedo la cortesia, siamo in ginocchio, veramente te lo chiedo con l'anima di farci iniziare a lavorare perché se no non apriamo più, non ce la facciamo. Un incendio è cadena, è come se tutti fermi sull'autostrada di botto e tutte le macchine dietro. Io tengo 150 mila euro di assegni tornati indietro perché comunque con 12 attività, 100 dipendenti eccetera, bollette non pagate, affitti non pagati, non so come riprendermi sinceramente. Poi non vedo la differenza tra chi ha il panificio o il tabacchino, perché i tabacchini aperti oppure i panifici, i supermercati che vanno le persone a prendersi le cose, un locale che mette un tavolo fuori, un banco da asporto, non vedo quale sia la differenza sinceramente. Soprattutto chiedo al governo di mettere delle norme, se tu mi fai aprire al 50% con i tavoli, devi mettere una norma che da qua a un anno, due anni, i fitti dei locali scendono al 50%, tutto scende al 50%, non riusciamo a sostenere. Se ci fanno aprire da giugno, dal primo giugno e mi fanno lavorare a 30 all'ora o a 50 all'ora, in base a tu come mi fai lavorare, in base devi scendere i fitti, ma non ci devi far litigare a noi con i proprietari dei locali, ci devi mettere una norma in mezzo, che da qua a un anno si abbassa tutto, in base alla maniera che tu mi tagli, così tagliamo tutte le spese fisse. Grazie a tutti.